Benvenuti su Bad Guys at School, nuovo giochino veramente divertente, siamo a scuola, dobbiamo comportarci come dei bulletti a scuola che fanno un sacco di disastri E mi sembra il gioco adatto per fare un po' di casino, far esplodere tutto, un disastro, il gioco è veramente super stupido, far ridere proprio per quel motivo, quindi è perfetto per noi Tra l'altro, quando si va a scuola, secondo me, un bello zaino ci vuole fare, se d'accordo c'è da qualche parte devi metterli Quindi, se volete, trovate la linea di Seven in tutte le cartolerie e trovate anche i diarli, tutto quello che vi viene in mente Adesso noi iniziamo, siamo con Mark e Marci e vediamo un po' come va in questo gioco, non ho aspettative, penso che succederà veramente di tutto Ok Marci, la nostra professoressa, abbiamo appena fallito la missione, quindi un punto per lui perché non abbiamo fatto tempo Perché io sono arrivata in ritardo a scuola, davvero bunda Drive the school bus into the lake, allora, venite, venite, venite Vabbè Seguitemi voi, seguitemi, Marci ci tratti bene, cioè siamo degli studenti Devo fare la vostra stessa cosa, devo fare Non penso, secondo me devi impedire che lo facciamo Ah, adesso dice di non far cadere nell'alto Eh, ovviamente, se tu sei la professoressa Però, aspettate, dov'è l'autobus? Non lo so Questa è una bella domanda, secondo me Allora, per strada non l'ho visto così al volo Mi state scappando Attorno Ah, venite, 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 venite Ma quindi mi devo picchiare, eh? No, no, no No, noi stiamo facendo un merente all'aperto Non stiamo facendo niente di strano Però siamo a 3-1, non è giusto Aspetta che Possiamo entrare, Steph Hai vestito la professoressa Ecco me, Steph Hai vestito la professoressa Mi sta prendendo a pugni Datemi una mano Stendiamola, stendiamola, stendiamola Eh, le ho chiamato un picchiere a me Eh, lo so No, non vale Prop No Aia Steph Questa è matta Stai bene? Eh, no, insomma Ok No, ma beh Ma io non la vedo Anche io non lo vedo più Io scappo Mi si contorce tutto il collo ogni volta che mi viene ribaltato Allora, come state riuscendo a lanciarmi dall'altra parte della scuola? Io mi chiedo Sono morto e sono esponato in infermeria Credo di essere in infermeria anche io Ce l'ho fatta Ragazzi, a me fa male tipo una gamba perché mi sto tenendo così Eh, bene, io e Marco siamo finiti in infermeria Eh, io no, sono ancora viva Ottimo, Steph, perché così possiamo rifare il giro Aspetta La professoressa non ci vede Ragazzi, organizzatevi, dai Come selezioni un'altra arma? Maffele, dove sei? Non lo so Non lo so, io non ti vedo, Marci E non te lo dirò mai anche se ti vedessi Abbiamo solo un'arma, la mano Eh, no, io ho preso l'estintore ma non riesco a equipaggiarlo Sono lì due ore che ci provo come un bot Eh, eh, eh Ciao, Fede Ma davvero è l'autobus? Credo, credo di aver fatto un disarci Steph, 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 Steph Aiutami, Steph, come ci entro? No, ragazzi, voi avete un autobus? Sì Raga, vi scorto Steph, prendi l'autobus, ti scorto No, raga, ma io non vedo l'autobus L'autobus lo vedo su Marci Occhio Allora, dov'è la professoressa che io la imberto? No, raga, l'autobus ha preso fuoco L'autobus è esploso Verso l'infinito È oltre Sì, Steph, andiamo via Bene, abbiamo feletto anche questa missione Abbiamo una professoressa pazza che auto esplode Eh, lo so Ma sono ancora vivo Eh, però io ho qualche punto per far esplodere il professore Lo vorrei Sono d'accordo Allora No, questa è bruttissima La prossima missione è molto brutta È lontanissima, professoressa, però L'avete letta, ragazzi? Sì, ma c'è, queste cose io non le farei male Io mi dissocio, però, eh Mi dissocio da quello che sto per fare Dobbiamo buttare un nerd nella piscina, raga No, ragazzi Che roba cattiva Ci penso io, ragazzi No, ci penso io L'ho preso, no, 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 l'ho preso, l'ho preso Ragazzi Guardalo No, professoressa Ci penso io la professa Lancialo, Steph, lancialo Ho sbagliato Ma quella è la fontana, non è la piscina Mi scusi Sì, la professoressa, Steph Vai, vai, vai Torna qui Vieni, vieni No, 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 bro Bro, bro Ci penso io Ma come fai? Fede, Fede, pensa alla prof No, non posso Ragazzi, aiuto Questa è pazza Mi trovate la piscina, per favore Non la trovo, Steph Sarà all'interno Scusami Mi lasci in pace Guarda la testa, prof Stiamo divertendo qui A caldo Vuole fare un bagno Io trasto il campo da football Ma che in cameretta che computer fa caldo, eh Per i nerd Ragazzi C'era uno all'ingresso Sì Che stava facendo una pioggia di soldi Ok Ma? E io li ho presi Però erano solo 30 dollari, quindi Ah, vabbè Anch'io 30 dollari Come si fanno a comprare le armi, raga? No, nel senso Le mazze da baby Aspettate, secondo me è questa la piscina Non posso andare avanti Ce la faccio Fai, Steph Sì Più 5 di reputazione Ma che reputazione Ma c'è adesso le pinne, raga Sì, il problema è che adesso non riesco ad uscire dalla piscina No, Steph Non si può uscire Non si può uscire dalla piscina Nuota, Steph Nuota più forte Ce la faccio Devi esserci le F Andiamo via, andiamo via, andiamo via Andiamo via Allora, abbiamo Mark come poliziotto barra professore E dobbiamo, tipo, tirare le stink bombs Il discorso è Dove le prendiamo? Stink bombs Ragazzi, vi sento E mi sembrano anche pericolose come cose Salve Cuoco Marco Cuoco Salve Cuoco No, io sono un poliziotto, ragazzi Ah, c'è un altro Cuoco qui Bello Dove siete? Mi stavo guardando male e me ne vado Ma guarda, io sto cercando delle bombe Nulla di... Quindi questa volta siamo seguiti da un poliziotto, ok? Ah, eccolo Dove siete? Buongiorno, dietro, dietro, dietro Ciao Aia È scomparso Ah, eccolo Ma cosa fate? Oh, la devi smettere Io non capisco con che fisica volo via Boh, non lo so neanche io Ma mi scusi, ma Ci potete dare delle stink bomb, voi, bulletti, qua? Ma chi è che ce ne ha delle bombe? Niente Allora Comunque quello non ti spiega Dove devi andare un po' te lo devi immaginare, quindi È vero, questo è un po' un problema di possibile Un po' un problema Raga, però dice che uno l'abbiamo fatto Troppo Ma come è possibile? Non lo so Chi l'ha fatto? Qualcuno era vicino al cuoco, Fere, tipo Eh, ma tanto tempo fa Fatta Missione fallita No, l'abbiamo fatta L'abbiamo fatta L'hai fallita tu, campione È fallita per te È fallita tu Perché non c'hai bloccato Ah Come hai fatto, steppa, alla fine? Scusami Beh, io sono andato dalle due persone Ah, ok Non so cosa voglia dire Non ha senso Allora, allora Signori e signore Siamo qui Per abbassare Mi si è bagato I pantaloni del preside No No Ci penso io Ci penso io Questo lo so fare Eh, ma dov'è il preside? Ah, il sopra è giallo Allora, devo salire le scale Salga pure le scale, certo Eh, salga le scale Certo, certo Sì, sì Il preside Vai preside, li seguiamo sotto il pista Ragazzi Picchia il preside Guarda, guarda Vieni qua, steppo Aia Oh mio dio Guarda la pasta No, con gli pantaloni ha passati Ragazzi, è una sorpresa per voi La volete vedere? Vai Però dovete stare tutti fermi Siete pronti? Aia Mi vedete? No Ma stai facendo delle foto? Come non mi vedete? Ah, il jetpack Esatto Ma dove cavolo l'hai preso? Ma che ne so No, chi mi ha preso e mi ha lanciato Non te lo diremo mai, campione Eccola è Allora Aia Aia Mi ha preso e entrò No, ragazzi Facci, la finisci Io scappo e faccio la prossima missione Arrivederci Io sono messo malissimo Dobbiamo evocare la piozza Con il... Ok Ma dov'è il tempio? Non lo vedo Non vedo la freccetta Ah, lo vedo, lo vedo Seguitemi Raga, ma qua cosa c'è? Guardate L'ho preso Lo lancio via Ciao, ragazzi Eh, ma io devo vincere Scusami, eh Hai capito? Sono entrata Comunque qui dentro Io ho trovato il jetpack Qui In quest'angolo Vieni, ok Venga qua, signor Steffo Ma, ma, ma Ma Mi molli? Aia No, ragazzi Si può uccidere con gli aeroplani di carta Oh mio Dio Non ci credo Ciao, povero Ma che bello Raga, gioco dell'anno 10 Gioco dell'anno Voto 10 10 10 10 Buono Scusami i radar comunque Ve lo dico Beh, siamo volati via Dai, grazie Ma la vera domanda è Ma che cos'è? No È qui No Ma ci manca la candela Eh? Le candele Ah Vedi, dobbiamo completare il rituale Vabbè, ma se non ce lo dice Abbiamo il modo di comprare qualcosa, Steffo Perché stiamo guadagnando dei soldi, no? Fatta Ok, ce l'hai fatta È solo che avevamo il jetpack, Ferre No, sta piovendo Sta piovendo Ma stava piovendo anche dentro casa, Steffo Anche dentro di me sapevo No, si sta lagando tutto No, mi ha levato il jetpack Nuota, nuota, nuota Ah, si va sereni Strabello, però In relax Allora, dobbiamo prendere la car Eh, sì, la macchina Sempre del preside E credo spacarla Ok, ok, torna tutto normale Perfetto Sì, sì, Steffo Eh, l'ho presa io Esiste la discarica da qualche parte nella mappa Dobbiamo trovarla Abbiamo quattro minuti La discarica? Sì Beh, perché junkyard dovrebbe essere discarica Quindi credo No, mi ha preso il poliziotto Sto cercando Eccola, è questa la discarica Oppure una zona lavoro Dove sono io a fare Ok Ragazzi No Io sto cercando di salire Ma c'è qualcuno Ah, è Mark Io devo fare una cosa molto cattiva Eh Dove siete? Devi vederlo con i tuoi occhi Devi venire al campo Da rugby All'aperto Ma immediatamente Sto facendo la missione Sì, fai la missione Poi vieni qui Perché c'è una cosa molto strana Credo che Che si sia buggato Allora Ragazzi, è esponata Vai, vai, vai Veloce, veloce Entra Non ci posso interagire Picchiatelo Piccatelo Sì, l'ho rubato No No, che esplode Via È esplodetto, raga Sono morto, raga Ops Io mi dissocio Ok Esploda? No, ma 30 secondi come facciamo, raga? Con lo zainetto Sono pronto A campioncino Sono pronto all'ultima missione Io sto scappando Io sto scappando Però è finita, ragazzi Avevo appena rubato l'auto Use firework Vabbè Uh, bella questa, Steph Sì, ma col jetpack è troppo facile Eeeh Che vuoi? Raga, dobbiamo scoprire dove sono i fuochi artificio Allora, io ve lo vedo a vedere tra le case, ok? Sì Eh, io sto andando davanti alla scuola a destra Ragazzi, ma Io devo proteggere lo sport coach Vuol dire che sarà dove c'è lo stadio No, è in giro L'insediante l'abbiamo trovato in giro Il problema è che noi mancano i fuochi di artificio Non possiamo farlo Capito? Dobbiamo far esplodere Allora No Io sono in una casa vuota, ragazzi Potrei abbandonare la missione, mi dispiace No, Steph, cosa hai trovato? Eh, ho trovato qualcosa di più importante Ad esempio Cos'hai trovato? Cos'hai trovato? Eh, ragazzi, non so come dirlo No, Steph, rendici partecipi, ti prego Una macchina da corsa Ah, sto arrivando Ok, dove sei? Chi è questo? Quale? Ma c'è dietro di te Ma Non ho parole Non ho parole Bene, dove sei? Sto volando Sono all'ingresso Ok, aspetta Mi sto raggiungendo, eh Ci sono quasi, Steph Ci sono quasi Mi viene a prendere Eh, oggetta che me lo posso No, Steph Cos'è? Sto volendo tirato fuori Ma che cavolo è? Non posso investirti, Steph Sta corri tutta la scuola Ma è bellissimo Raga, entro dentro Buongiorno È il principe sul cavallo bianco, Steph Uno è da, sul cavallo L'altro in macchina E una col jet Ma che poi No Dove è in macchina? Sono dentro Con la macchina Fede Eh, non se ne ero ancora accorto Lì l'ho fatto prima Beh Non lo conoscevi, Steph Guarda Vedi che ce l'ho Beh Io non mi esprimo Ma dove siete, raga? Mi ho perso In palestra Nella palestra chiusa Arrivo, arrivo, arrivo C'è uno squalo Un cavallo E noi col pogo Fine Io non mi esprimo Raga Che cosa stai facendo? Eh, ho catturato un tipo Aspetta No No, Steph Non farlo Ti prego Steph, non farlo Raga, vorrei salvarlo Poverino Non puoi Ormai è andato, Steph Ok, è salvo Aspettate Facciamo una cosa fatta bene Dov'è il cane? Raga Guardate No Si libera Ti giuro, Steph Ma dimmi Non capisco Ti stai infastidendo Ma io non capisco Perché ti dovresti infastidire Cioè Stiamo soltanto giocando Sinceramente Io penso che Che la tua vita Comunque È divertente E piacevole Mi sembra un lavoro Peraviglioso Che vorrebbe fare Qualunque essere umano Mimmi e cocò Guardali Uno mi tiene con l'accio E l'altro con l'ostintore Siete fastidiosi Siete Abbiamo vinto Abbiamo vinto Abbiamo vinto Bravi Bravissimi Marci non perde mai Bello Ah no è vero Non l'ha mai perso Ragazzi Fermiamo così Speriamo che il video vi sia piaciuto Gioco veramente Stupido ed inutile nel mondo Ma farvi vedere per quello Sotto come altri video Iscrivetevi al canale Cappellina E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao